da posto buongiorno buonasera gamarujuba agniosi sono di coprio ciao a tutti bentornati sul mio canale e fra poco fra poco fra poco comincerà la partita importantissima però ora sono le tre e mezza mamma mia sono mamma mia oggi non c'è Red Bull quindi birra birra giapponese cin cin per vittoria cent'anni amicizia BAM allora questo canale no è il mio canale 90 per cento folla di Naposta 90 per cento napoletani però piano 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 i tifosi giorgiani si dice giorgiani giorgiani e coreani grazie 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 a tutti bravi Kvara e Kim grazie Kvara allora avete visto queste due partite? Inter ha perso contro Monza mamma mia che bella giornata oggi bella allora noi dobbiamo assolutamente vincere fra poco cominciamo la partita contro Milan importantissima allora formazione iniziale meretto di Lorenzo Rahmani Minge Mario Angis Lovato Zilinski Politano Raspadori Kvara Strascheria allora posso dire a voi una cosa noi siamo forti siamo fortissimi abbiamo vinto contro Liverpool Rangers allora contro Milan possiamo vincere possiamo possiamo forse oggi vinciamo 3-1 3-1 3-1 un gol di Kvara un gol di Raspadori e un gol di Politano eh divertiamolo stasera adesso sono le tre e mezza da solo mamma mia con caridù allora short Napoli no posto no posto calabria tutto regolare e si presi no 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 attenzione mamma mia bravo bravo meret bravo puli 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 bravo 0-0 raspa raspa non gioca bene quindi cambiamo simione da posto guarda Pree Kvara 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 Rigore Oh rigore Cazzo Rigore Sì Rigore Right Ready L W 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 poli 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 oieee karitu uuuu poli I'm the guy I'm the guy Ugo 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 Mh Sfaccia Si Simeone Si Simeone 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 Simeone! 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 Qua è il suo? Simeone! Bravolo! Atenzione contro il piede! Simeone! Atenzione! Aaaaaah! Maaaaaai! Aaaaaah! Atenzione! Gravolo! Finito! Aaaaaah! Sìììììì! Biicicicicicicicicicicichicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicici! Abbiamo, abbiamo, vinto! Mamma mia. A San Siro abbiamo vinto! Siamo veramente forti... Sare forti! Sì 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 Grande Mamma mia Allora sono le quasi sei di mattina però Adrenalin Forse Adrenalin Non posso dormir Adolfo No 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 Napoli Allora 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 Grazie a tutti